addobbi natalizi alla betone mio nonno egisto usava dire è natale senza soldi ci sto male a ci avessi 10 lire per potermi divertire. Ci ho lavorato un bel po' le luci a parte qualcuna mi si è bruciato due o tre ma insomma si vede abbastanza. Natale è vicino e Valte ha preparato tutto ora poi vi farò vedere l'illuminazione dal di fuori. Signore e signori a dopo ciao una curativa lacrima negli occhi suavi sono tanti quelle festose giovani in vivi orse o o o o o o o o